Con i colori dell'autunno e la bellezza impareggiabile dei suoi paesaggi puri e appartati, la Val Tartano, angolo incantevole delle robbie valtellinesi, si prepara a portare in scena le delizie di Polenta. Sette tra alberghi, ristoranti, rifugi e agriturismi coinvolti in una originale iniziativa voluta dall'Accademia della Polenta presieduta da Celeste Gusmeroli per proporre alla clientela menu di qualità, dove la Polenta in mille varietà, dall'andipasto al dolce e persino al gelato, la fa da padrona. Sabato 26 andrà lì all'Accademia della Polenta per sei weekend, chiudendo l'1 dicembre 2019, quindi ci aspettiamo di proseguire un afflusso non male come è stato negli ultimi anni, quindi se va come è andato negli ultimi anni appunto sarà un successo, questo è quello che ci auguriamo. Che menu proporrete? I nostri menu allora si va dalla Polenta tradizionale con la farina biodinamica valtellinese accostata a dei piatti invece che prevedono una rivisitazione sempre a base di Polenta ma con accostamenti un po' innovativi, un po' più moderni, quindi con piatti un po' più ricercati diciamo. Si cerca di unire queste due esigenze che sono vive in noi. Il piatto tradizionale, quindi della nostra tradizione, della Valtartano, con cose un po' più moderne. Attesi in Valtartano visitatori da tutta la Valtellina e Val Chiavenna ma anche dal Lago, dall'Abrianza e da Milano. La prenotazione è obbligatoria. Tutte le informazioni e i riferimenti su www.accademiadellapolenta.org Questi weekend sono importanti anche per far conoscere la Valtartano a tutti gli anni a gente nuova e comunque anche gente che ritorna, che è venuta la prima volta e quindi ritorna per l'occasione. Questa è una manifestazione comunque che va sempre migliorando. Un sacco di gente e tante volte viene proprio apposta per degustare questi menù tutti a base di polenta. E poi c'è il paesaggio, la natura della Valtartano. Qual è la magia di questa valle? Adesso siamo anche immersi dai colori autunnali che comunque ha il proprio fascino. Infatti c'è molta gente che viene per visitare anche il paesaggio, per comunque mettere insieme il mangiare la polenta e il visitare le bellezze della natura.